lulu asma ciao carissima benvenuta si se ti vuoi rilassare sei nel posto giusto che trattamento vuoi fare oggi? ok quindi un bel massaggio al cuoio capelluto benissimo hai visto che ho creato un'atmosfera un po soft nel mio centro relax ho messo delle luci in blu e questo sottofondo musicale leggero che si sente ti piace? mi fa molto piacere ok allora hai i capelli molto lunghi ho visto sono bellissimi certo che ne dici se ti faccio sdraiare però prima ti do una pettinata con la spazzola ok e dopo procediamo al massaggio certo sì è una spazzola di stricare i capelli non sono rilassante lo so e anche questo contribuisce a far mettere a proprio agio i miei clienti facendo una pettinata con la spazzola in a colo ok no no No, non sento nodi Assolutamente Sono bellissime Ok, adesso ti faccio sdraiare Fallo pure con calma Io intanto vado a prendere un olio per massaggiarti i capelli Ok, vedrai ti pure Benissimo, sei a tuo agio? Ok Allora adesso ti metterò un olio sul viso così intanto che agisce sulla tua pelle Ti massaggio un po' i capelli E una volta che l'olio avrà fatto il suo effetto si sarà asciugato Ti applicherò anche questa mascherina sugli occhi decongestionanti, ok? All'interno ha queste palline qui congelate E una volta applicata sugli occhi andrà a dare un tocco di vitalità al tuo sguardo Ok, grazie a tutti 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 Girati un po', perfetto Ok, grazie a tutti 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 Ok, grazie a tutti